Assalto al castello Ebbè ormai Ormai cioè non c'è neanche il dubbio che non ci sia un infiltrato di Mercer da qualsiasi parte Incontriamoci al briefing della missione Tranquilli non vi preoccupate sono solo un super soldato Non sono arrivato volando questo era planare con stile Andiamo La mia compagnia sta per raggiungere la squadra del dottor Koenig E ora il vostro plotone è arruolato Ora fanno rapporto all'Archer Chiedi il permesso di parlare prima di aprire la bocca Brutto pezzo di merda Vi daremo solo le informazioni necessarie Tutti gli altri dati resteranno tra il tenente Raleigh e me Inoltre per non perdere tempo a rimediare alle vostre cazzate Il tenente Raleigh sarà a capo di questa missione Congedo Congedo All'ista 4-4 il primo gruppo di scienziati è in arrivo al sito 1 Raccoglieteli e portateli al sito 2 vi invio le coordinate Aspetta Ecco fatto Ci vado subito Gli scienziati sono già qui Stanno arrivando dalla ZG Sto andando a incontrarli Forse otterrò qualche indizio su questa dottoressa Archer Bene Buona fortuna Speriamo Io intanto ho un lanciarazzi Eccoci qua All'ista 4-4 il primo gruppo di Koenig è atterrato al sito 1 Tempo per il vostro arrivo? Castle qui 4-4 Arrivo previsto tra 5 minuti Basta girarvi pollici e muovete il culo Abbiamo già perso troppi uomini Allora abbiamo una catena di DNA gialla E due azzurre Vieni qua tu Perfetto No il mio lanciarazzi No Vediamo se riesco a consumarlo Senza destare nessun sospetto Perfetto Forza Vieni qua Ecco qua Grazie Che tanto ormai soldati non ce ne sono più Cioè adesso questi me li mangio Non c'è nessuno che mi può fermare Pensa un po' È osservato da chi Ecco fatto Abbiamo un nemico sconosciuto Attaccate il nemico 4-4 Mantenete la posizione e attendete ballista 4-4 Tutto risolto Non è compromesso Non so come abbia fatto ma è stato El Eder non può raggiungere il 2-2 Non deve fallire tenente Ci sta lavorando signore Ed è solo meno Andiamo Andiamo Spingiamolo noi che siamo più veloci Di sto carro armato Ecco fatto E tu non sei sicuro di poterlo prendere il posto? Trova e distruggi il carro armato del tenente Distruggi i carri armati Usando i velicoli corrazzati Guarda Fermo Posso entrare signore? Maco 1-2 Aggiornatemi Ruba Senza che nessuno Dessi sospetto Pensa un po' Qui ballista 2-1 Il bersaglio ha dirottato uno dei nostri veicoli 2-1 Eliminatelo Improviamo Passo Porca miseria Ma tu non hai lanciarazzi? Fermo lì tu Spara sto razzo Ok Direi che la copertura è saltata Ho bisogno Oggetto sbagliato Dai Di nuovo Dai bello Vieni qua No Vai 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 Mangiatelo Perfetto Ok Madonna mia Questa è stata Una morte terribile È stata veramente terribile Allora lasciamoci La lama Ma teniamoci Anche il martello Per ovvia Sicurezza Ecco fatto Andiamoci a prendere Un altro carro armato Ecco qua Madonna mia È stato per i pugni O è stato perché In generale è più semplice Rubarli in questo titolo Vai 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 Scappa Dobbiamo riuscire A trovare l'altro carro armato Non so dove sia Ma tanto vale iniziare a cercarlo E addio all'elicottero Eccoti qua Ciao Preso Eh Credo che sceglierà la seconda Sai Eh Qui Castle Eh qui Castle Io intanto sto correndo Con un carro armato In fiamme In tutto questo Solo uno svantaggio tattico A prendere Il carro armato E io Eccolo Ti pareva Ecco qua La frusta contro gli elicotteri È davvero Una delle cose migliori Che ti può uscire Vai 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 Gira Ecco qua Così non ci becca Dove cavolo è andato Eller Eccomi qua signore Le chiedo scusa Ma devo entrare anche io Così subito All'improvviso Dove sono i tuoi sedativi E i vetri blindati Dove è il tuo armadio Pieno di zombie adesso Fermo un attimo Qualcuno uccida Questo psicopatico Ci penso io Tranquillo Fermo Eh sì Eh sì Mi ucciderà di sicuro È stato semplice Rally Ha scoperto Dove si trova Koenig Temo di no Aveva pieno accesso All'escorte Di white light Della gente E un paio di volte Ha deliberatamente Nascosto Ciò che faceva Lui e la sua squadra Sono sospetti Eh Ma va Vi siete fatti Un po' Infinocchiare voi Sappiatelo E in tutto questo È il momento Di fuggire Ops Troppo tardi Devo scappare Ecco fatto Ok Credo di essere Un po' In svantaggio Tattico Qui eh Parato Perfetto Becchio di questo Ah troppo lontano Preso E ora dovrei essere in salvo Missione compiuta Castle Qui checkmate Dove cazzo siete Vediamo se sono Un bravo attore Ha ricevuto Qui il rally Voglio dire Castle Mi spiace È successo Un casino Cazzo Porta il culo Fino a una zona sicura E richiamami La dottoressa Archer È sparita Ricevuto Ottimo Assalto al castello Completato Padre La dottoressa Archer È dispersa La Blackwatch Non sa dove sia Ma stava lavorando su quella cura a White Light Madre di Dios Dobbiamo trovarla Non mi preoccuperei troppo Ora che ho l'identità di Raleigh Rux mi dirà tutto quello che voglio sapere Non ne sarei sicurissimo eh Però La speranza è l'ultima a morire E tra l'altro qua sotto c'è qualcuno da bagnarsi Neanche qua sotto Fermo È proprio qui Accanto a noi Ecco fatto Zack Nuova conoscenza Dovremmo levarci dalle palle Cos'è la paura? Siamo abbraccati da un tizio che compare dal nulla E mangia i carri armati con i denti A me sembra divertente Ha una strana concezione di divertente quest'uomo Però Soppressione 5 Che cosa ci ottengo da questa missione? Specialista del potere Beh Beh Vabbè Andiamola a fare già che siamo qui no? Chi sorveglie i guardiani Ottimo Si sta diramando ancora di più questa missione Missione completata Facciamo un minuto di silenzio per il progetto Orio Facciamo un minuto di silenzio per il progetto Orio Autore dei sorrisi